Si chiama Alexis Bretta, 39 anni, è la mamma del record, vive in Regno Unito, lei infatti e il marito David di 44 vivono negli alleni scossesi, hanno avuto ben 11 figli di cui i primi 10 tutti di genere maschile, quando ha saputo di essere di nuovo incinta era convinta che si trattasse di nuovo di un maschietto, invece è nata una femminuccia che hanno chiamato finalmente Cameron, questo è il nome scelto, insomma è rimasta piuttosto colpita, felice la donna, ma sia lei che lui, sia Alexis che David hanno detto ora ci fermiamo, basta figli insomma dopo tutti questi 11 figli infatti hanno detto stop per sempre, insomma una famiglia numerosa, mi chiedo come faranno a mantenere questi 11 figli, hanno molti soldi in banca vivono bene, hanno un lavoro dignitoso, un meglio facoltoso, chi lo sa Agosti che l'ardo sentenza, sta di fatto però che è una famiglia veramente che assomiglia a quella di una squadra di calcio, secondo la mia opinione sia chiaro, un saluto caro a voi utenti di Youtube, iscrivetevi e commentate, al prossimo video da Leandro, un narratore italiano, una buona serata